WOOOOO Musica 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 Buona ragazzi come ragazzi e bentornati in questo nuovo video ci troviamo oggi Finalmente davvero Finalmente che proprio finalmente che proprio Finalmente la gente si aspettava che diceva proprio Finalmente in Un nuovo episodio della Vintage Craft e qua La gente già metterà dislike per Titolo, miniature, tutto quanto Clickbait finalmente ritorno al vero clickbait Ragazzi allora da subito Vi lascio un bel like, un bel commento e Scrivete al canale se ancora avete fatto e perché Siamo sulla Vintage Craft Allora anzitutto Torniamo qua perché il mondo Mi ha detto che si è salvato appena Respondo mi trovo subito in casa con Una piccola sorpresa e qua Mi hanno detto che Tanno e Marci Mi fanno Marco da un po' che non stai sulla Vintage Craft vero che poi non porti video da un mese E ho detto Bomber avete ragione e sono salito e Mi sono ritrovato esattamente Un po' di blocchi di diamante Così a random in casa e ho detto Ah mi sono trovato un attimino La sorpresa se così possiamo definirla E quindi nulla ragazzi Già da subito comunque vi do davvero Lasciare un bel like, un bel commento e Madonna cosa c'è fuori Vabbè perché sto facendo questo video La Vintage Craft davvero molto veloce Perché essenzialmente volevo chiedere Scusa a tutti quanti Quei ragazzi che Mancava appunto questa serie Mi dispiace non averla portata E faccio questo video molto veloce Per riprendere in mano la serie E innanzitutto davvero ragazzi Mi spiace Perché alla fine non vi ho mai spiegato Perché non c'era più la Vintage Craft Anzi L'ho spiegato in un video che poi ho cancellato Dopo tipo mezz'ora che era uscito E ora ve lo spiego Molto semplicemente Mi ero stancato C'era un periodo In cui leggevo commenti Di gente diceva Marco ho rotto le palle Non ti informi mai prima dei video Intanto io spacco i blocchi di diamante Non ti informi mai prima dei video Non fai mai le cose fatte per bene Sono ignorante Non ti merito di stare nel server Con Marco, Cittano, Tech Perché loro ne sanno tantissimi Tu sei una merda E quindi mi dava tanto fastidio Fare dei video E trovare per esempio Il 50% dei commenti della Vintage Craft Che Della Vintage Craft Che ai tempi Ma c'era davvero un sacco Ma un sacco di commenti di ragazzi Che erano davvero interessati A aiutarmi in questa serie E che ringrazio davvero di cuore Oh la madonna Ah vero Qua c'avevo lo scavo per La stanza degli strumenti Dicevo Ai tempi Avevo tanti 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 Ma tantissimi commenti Una roba come 300 commenti Di cui 150 Per esempio Di ragazzi scrivono Tanta roba Così nei commenti Per consigliarmi Intanto qua ho rotto Uno slab Per consigliarmi Per esempio Cosa costruire Come farlo Il perché Farlo E vi ringrazio davvero di cuore E invece mi trovavo Per esempio Altri commenti Di gente avvero tanto Fastidiosa Che dicevano Che non mi meritavo Per esempio Di fare questa serie E queste robe E già io Prima di Appunto Registrare questa serie Avevo detto Ragazzi Io faccio Io faccio questa serie Il pacchetto Moddato L'ho giocato Avvero molto poco Ai tempi Quando mi ero Approcciato Al minecraft Moddato Quindi ho bisogno Davvero di tanti Ma tanti consigli Da parte vostra Magari vi lascio Qua sotto In descrizione Quel video Il primo video Della vintage craft Dove appunto Dicevo questa roba E a me Sinceramente Dispiaceva Ragazzi Giocare Questo pacchetto Senza sapere nulla E appunto Vi ringrazio Ogni video Per ogni mano Per ogni sostegno E tutto quanto E diciamo che Col periodo fiere Col periodo Che ero davvero Tanto di corsa Per registrare Tanti video di fila Portare la vintage craft Magari Molto velocemente Con tanti errori Di base Perché magari Registravo un video E c'erano Un sacco di errori Per esempio Durante la registrazione Dove magari Sbagliavo a dire Un nome di una roba Sbagliavo un crafting Ci perdevo tanto tempo Non avevo Né tanto tempo Per star dietro Né al pacchetto moddato Di per sé Né al montaggio Del video Perché comunque È un video Che richiede Un suo montaggio Perché Magari star lì Far vedere ogni crafting È un po' Una rottura di palle E fare un video uncut Sulla vintage craft Magari Oggi viene Completamente Un video uncut E magari faccio Un filone di un discorso Tutto quanto Importante per 10 minuti E viene anche visto Molto Viene anche apprezzato molto Perché comunque È una spiegazione Del fatto Del perché Io non porto più Una serie Però comunque Dicevo che Non potendo star dietro Di per sé Alla serie In sé Ho detto La stoppo La riprendo appena Ho tanto tempo Perché comunque Ora le fiere Sono finite Essenzialmente Quindi posso riprendere Per bene in mano Il pacchetto E anche agli altri Ho detto ragazzi A me spiace Sinceramente Non portare più La vintage craft Però comunque È una scelta Che ho dovuto fare Anche per Portare più qualità Più avanti Nella serie So che sono davvero Tanto indietro Rispetto agli altri Perché Gli altri Magari andiamo a vedere Dopo un attimino Cosa hanno combinato Però ora come ora Sto pensando al fatto Che a parte che C'è fuori una tempesta E credo che io Possa anche andare A dormire No non posso dormire Perché non è notte Vediamo un attimino Se abbiamo del cibo Non ho del cibo Seriamente Intanto mi sono fatto Uno due tre Blocchi Tre stack di blocchi Di diamante Però non ho del cibo Allora facciamo una roba Raga Visto che questo È comunque un episodio Molto 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 veloce Innanzitutto mi scrivete Se poi vi piace La facecam Così visto che Sto registrando il video Anche il giorno in cui Dovrebbe uscire Il primo episodio Delle bedwars Che è sotto in descrizione Con la facecam Con la videocamera Comunque fatemi sapere Voi nei commenti Io direi Non avendo cibo Io andrei a trovare Nella casa degli altri Cazzo ma qua avevo Il generatore di diamante Che ho lasciato anche acceso Oddio mio Quanta roba ci sarà Qua dentro Infatti Si è bloccato Perché ci sono Oh mio dio Raga ma è tantissimo Oddio mio È una cosa impressionante Quanto diamante c'era Vabbè allora Facciamo una cosa Andiamo prima A casa degli altri Rubarli qualche cibo Perché mi serve Assolutamente il cibo E poi Creiamo tanti blocchi di diamante Per quel diamante Lì che ho farmato E visto che sono tornato Merde sul server Che cazzo è quella roba Scriviamo un bel 130 Davanti alla casa Di tutti quanti Giusto che La mia 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 Sono tornato Merde C'è ancora E ho droppato giù La spada di ferro Poi ci facciamo Tutte quante robe in diamante Per bene E concludiamo l'episodio Così mi scrivete qua sotto Nei commenti Dei consigli Per riprendere bene La serie Magari scrivetevi cosa Volete nel prossimo episodio Così ripartiamo Tutto quanto per bene Voglio anche andare A osservare Cos'è quella torre Di acqua Perché non Non ho po' di idea Quindi prima Prendiamo un pochino Di cibo dal bomber Marci Lui c'ha un blocco Di diamante Là sotto Un regalo da Tano Vediamo se c'hanno Del cibo Le merde qua A giro Voglio anche ritornare Ad essere il solito ladro Che ero nella vintage craft Quindi vediamo Ma qua c'è del cibo Mi serve del cibo Bomber Eccolo qua Lo chiamo ed è arrivato Ti regalo questo osso Perfetto Mangiamo il nostro Bellissimo cibo E con i blocchi di diamante Che mi hanno regalato A sto punto Raga Facciamo una cosa per bene Scriviamo un bel 130 Dire che son tornato Merde Quindi A parte il lag Credo che Un Uno Come cazzo si fa L'uno raga In minecraft E' impossibile da fare Allora facciamo una roba Minchia Però usare i blocchi di diamante Per buildare È una cosa troppo ignorante Tac Tac Certo che potevo costruirlo In un posto magari Un po' più comodo Eh 130 Merde Ok Aspetta Casa di bontech Raga Io non so ancora Dove si trovi Rendetevi conto Ci ho passato così poco tempo Su questo server Che non so Dove è casa di tecca Vabbè Prima o poi andrò a rubare Anche da lui No ho sbagliato Ok Prima 130 Comunque l'abbiamo fatto Eccolo qua 130 Merde Ora voglio vedere Marci quando torna a casa La sua reazione Poi mi scriverà di sicuro In privata Andiamo anche a scriverla Al bontano A questo punto Al bontano Comunque anche lui E stra avanti Eh Ma cosa sono tutte quelle uova Del drago Ma che cazzo ci fanno a te Ma perché ce ne sono tre Ma che cazzo Vabbè A sto punto 130 anche al bontanal Che poi è lui Quello che mi ha Riempito di sicuro Casa Con tutto quel diamante Perché era lui Quello più ricco Del server Quindi Facciamo una roba Rompiamo questo E per volte devi rompere Bomber E rompiamo anche No quello lì Non dovevo romperlo Prima dovevo fare L'uno Vabbè facciamo così L'uno Questo è proprio più grande Quello di Marci Quindi Chiudiamo anche qua E facciamo lì Un altro bel 130 Al bontanal Spacchiamo questo blocco Risaliamo Nah Ok perfetto Così risaliamo un pochino E l'ho fatto Un blocco più in alto Quindi Rientriamo E bontanal Teori da tutti quanti Dei blocchi di diamante Che mi hai regalato È così Poi diamo anche un occhio Cosa Ma qual bontanal Cosa cacchio combina Con queste case gigantesche Questa qua mai ricordo E mi sono chiuso dentro Guarda come ostenta il bontano Con tutto quanto l'oro Così Ma fammi uscire Sei un ostentatore Bontanal Adesso ti metto in giro Tutti quanti blocchi di diamante Così come hai fatto te Ecco Perché non posso buildare Madonna Poi bardiamo Raga Dobbiamo farlo Devo bardare L'uovo Di Lender dragon Col diamante Così imparano A spammarmi un po' di diamante In giro Poi a sto punto Li facciamo anche noi Una bella sorpresa Li mettiamo un po' di diamante Qua e là A modo molto 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 Ignorante Visto 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 che so Che è stato Che è stato anche Il bontana La farmi Quella roba Anche il bomber Marche si merita A sto punto Di riempire Tutta quanta la casa Intanto ci sono Piano zappoi di mob Quindi dover tornare a casa Però non c'ho voglia Però devo tornare Vado a dormire A sto punto Vado a spammare Ancora un po' di blocchi Di diamante Ma andiamo subito Raga sti cazzi Andiamo a spammare Un po' di blocchi Di diamante A casa del bomber Marche E poi seriamente Concludiamo l'episodio Che ve l'ho detto Raga era molto Molto veloce Proprio Una cosa No da quando ho triggerato L'enderman raga Non l'ho mai triggerato Bomber Non farmi del male Sono solo full ferro Ok abbiamo dormito A casa del bomber Marche A sto punto Visto che siamo qua Concludiamo l'episodio Così Piazzendogli un po' di blocchi Di diamante Qua a giro E poi Vi saluto ragazzi Perché come vi ho detto Era davvero un episodio Molto breve Molto veloce Ho spaccato un po' di robe Qua però a sto punto Gliele metto dentro Al Facciamone una chest Noi raga Tac Li creiamo noi una chest Con un bel cartello Con scritto Che sono tornato a merda Quindi mi serve Anche fare questo Poi facciamo La nostra bellissima cesta Tac E poi Madonna mia raga I blocchi proprio contatissimi Facciamoli No Raga Non l'ho fatto apposta Marci scusami Comunque Facciamoli qua il cartello Rimettiamoli via Questi blocchi qua E mettiamo questo cartello Qua davanti No non si può mettere Allora facciamo così Scusa Per l'esplosione E Mede Ok Prendiamo anche un po' Di blocchi di terra Qua E a sto punto Facciamo così Li mettiamo anche I blocchi di terra Qua dentro Vabbè Ragazzi È stato davvero un episodio Molto veloce Ma era per annunciarvi Questo ritorno appunto Della Vintage Craft E nulla Ci vediamo in un prossimo video ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel like Un bel comment Supportate la serie con un bel like La marca è tutto Scritta nei commenti Anche se vi piace la fisca O così magari la preferite La marca è tutto Bella Grazie a tutti Grazie a tutti